Ben ritrovati cari telespettatori, un nuovo appuntamento con Orizzonte Fano e allora vedete già dall'inquadratura ci sono due ospiti insieme a me e allora cominciamo a presentare subito Sara Lexwan, ricercatrice e consulente presso la società Avanzi di Milano e poi Pia Miccoli, urbanista che lavora all'ufficio del PRG del Comune di Fano. Allora cominciamo subito con la prima domanda, intanto che cos'è un host? È una grande opportunità per la città, nasce dal fatto che stiamo elaborando il piano strategico per la città di Fano, ovvero ci chiediamo, chiediamo tutti i cittadini, quale città vogliono per il 2030, per il medio futuro. L'host è il momento in cui tutti i cittadini che amano la nostra città, che hanno delle idee, che vogliono esserci, possono venire ad esprimere le loro idee, i loro bisogni e i loro sogni per Fano. È un'occasione in cui, per una volta, non si è passivi ascoltatori di un relatore, ma si è parte attiva di un momento di costruzione. Come si svolgerà questo foro? Dunque, il 4 marzo ci sarà questo incontro pubblico che si svolgerà in una prima fase iniziale presso l'ex chiesa di Sant'Arcangelo e poi ci saranno dei momenti di lavoro un po' più operativi presso le sale della Memo di Fano, del centro storico. Sostanzialmente la giornata sarà organizzata in un momento appunto di plenare iniziale in cui verrà proposta un po' una suggestione, verrà lanciata una prima suggestione alla cittadinanza rispetto a come ci si immagina Fano nel 2030. A seguire ci sarà la raccolta da parte appunto del gruppo di lavoro di alcune tematiche che la cittadinanza porrà all'attenzione rispetto a questa suggestione. Successivamente le tematiche verranno raccolte e suddivise in dei tavoli di lavoro che si svolgeranno in secondo momento all'interno della Mediateca Montanelli. Quindi è tutta una giornata praticamente. È tutta una giornata, esatto. Inizeremo la mattina alle 9 con la plenare iniziale a seguire poi ci sarà una prima sessione di lavoro e chiaramente l'host, il foro urbano, ha come dire una dose di imprevedibilità. Cioè le persone che partecipano a questa iniziativa proporranno delle tematiche loro, di loro spontanea volontà. Per cui oggi non sappiamo con precisione quanti tavoli di lavoro si creeranno. Quindi sicuramente ci sarà una prima sessione e successivamente a questi tavoli di lavoro in parallelo ci sarà una plenaria di chiusura in cui appunto si restituiranno gli esiti dei lavori. A me verrebbe da dire non siate timidi, cioè non è che dite, magari avete delle idee però le tenete proprio, ma io non sono forse quello più adatto. No, questa è un'occasione importantissima, quella del 4 di marzo, alla quale se davvero avete a cuore, ce l'abbiamo tutti a cuore nella nostra città, dovete partecipare. E chi dovrebbe però, secondo voi, chi potrebbe partecipare? Il piano strategico già di suo coinvolgerà portatori di interesse, opinion leader, le istituzioni. Questa, l'host, il foro urbano, è l'occasione in cui invece tutti i cittadini, soprattutto quelli che non siedono mai ai tavoli istituzionali, possono dire la loro. È il momento di essere costruttivi e propositivi, di lasciarsi coinvolgere, di lasciare a casa la timidezza. Anche un momento molto informale, non si parla davanti a 100 persone, ma davanti a 10, in un gruppetto ristretto. Quindi noi invitiamo in modo particolare i giovani, perché si parla del loro futuro, invitiamo in particolare le donne, che di solito sono scarsamente rappresentate, ad esserci, perché è l'occasione. E gli effetti pratici si vedranno? Sì, subito, immediatamente, già dalla sera stessa, perché ogni tavolo produrrà un instant report, cioè un report istantaneo. Questi report saranno già scaricabili dal sito Orizzonte Fano, che già la cittadinanza può consultare. Immediatamente consultabili la sera, quindi se uno è curioso di vedere cosa è immerso, anche dai tavoli a cui non ha partecipato o non è potuto venire, insomma può vederli. Da qui, questo è materiale grezzo che la società, insieme all'amministrazione, elaborerà per costruire il piano. Ecco, allora, l'ultima domanda è come partecipare a questo appuntamento? Beh, innanzitutto bisogna venire alle 9 del sabato 4 marzo, davanti appunto al luogo di ritrovo iniziale, che è appunto l'ex chiesa di Sant'Arcangelo. E ci si può iscrivere all'evento attraverso il sito Orizzonte Fano. Entro il 28 di febbraio, questo è importante ricordare. Quindi entro il 28 dovete iscrivervi, per tutto il resto c'è anche la pagina Facebook, che immagino ormai sia operativa, per tutte le informazioni. Allora, io ringrazio Sara Xwan, ricercatrice e consulente presso la società Avanzi di Milano e Pia Miccoli, urbanista del Comune di Fano. Grazie a voi per averci seguito. Buona serata a tutti.